amici di planet spin benvenuti sul canale benvenuti a questo nuovo video oggi è una giornata dedicata ad un evento di kayak fishing e di belly boat fishing abbiamo fatto un raduno in in mare qui siamo in provincia di salerno e tanti appassionati che io non mi aspettavo così tanti abbiamo superato la ventina di iscritti ecco ci siamo visti questa mattina per ecco stringere anche un legame un rapporto di amicizia tra noi appassionati della zona e non solo perché ci sono anche delle persone degli amici che sono venuti da le zone di napoli del casertano oltre che dal dalla zona di salerno dove siamo ora che dire vi faccio vedere un po come è andato l'evento vi porto con me in questa battuta di pesca speriamo di divertirci e di fare anche qualche bella cattura andiamo diciamo giusto quattro parole poi andiamo a pesca anche per rispetto di chi è venuto molto presto i ragazzi che sono arrivati tardi recuperano dopo no ok allora io sono luigi e sono un po la persona che ha organizzato questo anche se tutto è nato dal nostro gruppo prima di iniziare ci tenevo a fare i ringraziamenti soprattutto da chi è venuto più lontano da chi ha sacrificato la famiglia il lavoro gli impegni per essere qua ovviamente avevo fatto un piccolo discorso solitamente accade che mi dimentico un po' arricchiaio un po' la stanchezza facciamoci un bell'applauso che ci penso pure il allora quello che volevo dire a questo qualche appunto che cosa serve serve fare gruppo e chi già fa parte delle delle associazioni sa che cosa vuol dire presentarsi ecco come gruppo invece ecco di portare avanti quelle che sono delle ambizioni personali attualmente fare gruppo non vuol dire stare sui social fare il gruppo social ma vuol dire anche scendere in piazza no scendere sul posto come abbiamo fatto noi ed è questo qua è un primo passo per cercare anche di dimostrare quando vogliamo fare le cose ci riusciamo in questo raduno e a questo evento diciamo in qualche modo io ho voluto espressamente non far comparire sponsor per il semplice motivo anche l'associazione che faccio parte di un'associazione però in questo contesto qua ho preferito essere senza brand senza marchi proprio perché da un punto di vista personale non sapevo quante persone potevano arrivare quindi presentarmi come associazione e venire qua con 3 4 persone sarebbe stato un piccolo flop no quindi questo qua è serve anche per capire cosa c'è una risposta dal punto di vista invece dei brand degli sponsor io cerco di far prevalere quello che è la nostra passione il nostro spirito di amicizia chi mi segue dai miei raduni venti anni fa abbiamo cominciato insieme e sai che cosa sto dicendo cioè siamo qua non perché c'è un gadget c'è un dolcetto c'è diciamo una maglietta un cappellino fanno piacere ma non è questo il messaggio che deve passare il nostro messaggio ma soprattutto alle nuove generazioni di pescatori mi farebbe molto piacere la prossima volta visto che molti di voi hanno dei figli anche piccolini portatele a pesca e magari di tramandiamo la nostra passione che è una delle cose più belle da fare grazie a tutti allora finalmente tutti i ragazzi che hanno partecipato al raduno sono in mare sia i ragazzi che sono dimbelli e sia con il kayak ed ora tocca a me fare il baro la spiaggia praticamente adesso è vuota questo è il mio scafo questo è il mare spettacolare si vede ancora qualcuno che si sta allontanando e ora vi porto con me in questa battuta di pesca che faremo faremo un po di poi cercheremo qualche marcatura di mancianze scenderò con il sabbichi e con il gigliettino per fare un po di vivo per eventualmente fare un po di pesca traina con il vivo in alternativa se vedo delle cacciate oppure so che c'è e poi portiamo il nostro kayak in acqua facciamo pochi metri usciamo fuori caliamo il timone un po di destra sinistra per fare sciogliere le cime che tengono i movimenti del timone e metto a posto la pagaia dopo quest'operazione calo le pinnette pinnette calate prendo la direzione e accendo l'eco eccoci andiamo verso lo spot ho marcato un po di pesci sull'eco vedo se si tratta di pesce si tratta di pesce foraggio e devo mettere l'altra canna ho messo un'altra artificiale un po più pesante per fare un po di distanza ho visto qualche cacciata a galla non sono riuscita a capire di chi si tratta vedi metto fa una mangianza fa una cacciata spero di scoprirlo spero di scoprirlo è un caro amico sul belly il nostro genarino che per la seconda volta buca la seduta del belly ci sta e là devo fare qualche lancio ecco qua mentre sta facendo un po di trainetta ho preso anche qualche sgombretto vediamo se riesco a portarlo su la mettiamo nella vasca del vino vediamo che pesce ah è sì ma è 21 cm dai 21 cm facciamo il rilascio dai è proprio piccolo piccolo è un peccato vai vai è andato dobbiamo prendere il papà il nonno anzi proviamo a sentire i ragazzi si hanno fatto qualcosa come sta andando la pescata brecca al canale mi sentite? qualcuno in ascolto? Gigi Ciro sei tu? come sta andando la pescatina? eh insomma e niente ma adesso sono rientrato mi sono avvicinato per provare a train per vedere se esce qualche serra speriamo bene va bene in bocca al lupo a dopo a dopo Oh, complimenti! Grazie a tutti! 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 Sono usciti per il momento due serra carini, due bei serra presi a train con il vivo e poi alcuni amici che hanno fatto bolentino hanno preso qualche pesce balestra, anche un'orata e poi ci siamo divertiti a fare un po' di pesce azzurro, qualche sardone, qualche tombarello e niente. Per il momento ci stiamo divertendo. E' un bel serrotto, è uscito, è uscito? Traina? Sì, è il mio primo serra con il vivo! Dal kayak! Dal kayak! Grande, grande Giuseppe! e poi ci trovate sui social sui social, su Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, non dire che ve lo dico, ci conoscete meglio di me! Allora, che dire, ringrazio tutti gli amici che hanno partecipato a questo evento e invito tutti gli amici che non sono potuti venire per cause di forza maggiore a questo primo incontro che abbiamo fatto perché ne seguiranno degli altri, vista la buona partecipazione e la buona risposta dell'utenza. Ringrazio a tutti per la visione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!